Il treno regionale, 2200, di Trenitalia, proveniente da Colleferro Segni Paliano, è diretto a Roma Tiburtina, delle ore 6 e 34, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Ciampino. Il treno regionale, 12.595, di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretto a Cassino, delle ore 6 e 40, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Colle Mattia, Colonna Galleria, Labico, Surgola. Il treno regionale, 22.05, di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretto a Colleferro Segni Paliano, delle ore 6 e 47, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Colle Mattia, Zagarolo, Balmontone. Il treno regionale, 22.02, di Trenitalia, proveniente da Colleferro Segni Paliano, è diretto a Roma Termini, delle ore 7 e 04, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Ciampino. Il treno regionale, 12.702, di Trenitalia, proveniente da Frosinone, è diretto a Roma Termini, delle ore 7 e 20, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Ciampino. Il treno regionale, 12.600, di Trenitalia, proveniente da Cassino, è diretto a Roma Termini, delle ore 9 e 30, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedie. Il treno regionale, 12.703, di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretto a Frosinone, delle ore 9 e 33, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 12.609, di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretto a Cassino, delle ore 10 e 33, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 12.601, di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretto a Cassino, delle ore 8 e 16, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Colleferro Segni Paliano, Frosinone, Roccasecca. Il treno regionale, 12.602, di Trenitalia, proveniente da Cassino, è diretto a Roma Termini, delle ore 10 e 46, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Ciampino. Il treno regionale, 20.216, di Trenitalia, proveniente da Colleferro Segni Paliano, è diretto a Roma Toscolana, delle ore 20 e 32, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Ciampino.